Gentili telespettatori, buona giornata. Una volta si emergeva perché si veniva presentati al Maurizio Costanzo Show, da Maurizio Costanzo, trampolino di lancio per la televisione dove se venivi invitato da lui poi magari ti facevano fare un programma. Bene, adesso le modalità per il successo odierno sono altri. Si cerca fortuna sui social, veri e propri competitor delle classiche televisioni. E vediamo che un ventunenne di Chivasso diventa il nuovo re dei social, così velocemente, all'improvviso. Si chiama Caby Lame e supera Chiara Ferragni, è l'italiano più seguito su Instagram, su TikTok e invece addirittura terzo a livello mondiale. Toccando i 24 milioni su Instagram di follower, il ventunenne di Chivasso vicino Torino supera la popolarissima influencer. Dopo aver accumulato 75 milioni di seguitori su TikTok, ora è diventato anche l'italiano più seguito su Instagram. Sorpasso su Chiara Ferragni completato alle 15.15 di lunedì pomeriggio. 24 milioni di follower. Chiara Ferragni ne ha 23,9 e rimane la regina delle influencer italiane e lui diventa il re. Un traguando che impressiona perché il ventunenne di Chivasso, originario del Senegal, per raggiungerlo ci ha messo veramente poco tempo. Il suo primo video su TikTok risale infatti al marzo del 2020, appena 15 mesi fa. I suoi post su Instagram sono inoltre soltanto 114, mentre quelle della Ferragni sono 14.653. Ogni singolo contenuto pubblicato sul servizio di proprietà di Facebook gli è fruttato una media di oltre 210.000 nuovi seguitori. Io che avevo cominciato a mettere qualche video su TikTok, per provare questo social. Per sbaglio avevo visto questo ragazzo, che spesso lo troviamo con la tuta della nazionale italiana. Io poi ho visto un video che aveva fatto con Del Piero, ho detto ma magari è un calciatore italiano, magari gioca in nazionale. Io che di calcio ormai ho perso i contatti. Pensavo fosse un calciatore italiano, perché ho visto milioni, ero arrivato quando io l'ho visto aveva 61 milioni di seguitori. Ho detto beh, per avere tutti quei seguitori, lo vedi con la tuta dell'Italia, sarà un calciatore famoso. Invece no, fa dei video spesso muti, dove diciamo fa una sorta di critica ai video di altri utenti. Su TikTok c'è la possibilità di far rivedere i video di altri utenti, di utilizzare i video di altri utenti, dove fanno qualcosa e lui senza parlare fa capire che quelle cose che stanno facendo sono semplicissime, si potrebbero fare in un altro modo e finisce facendo così, come dire, non è semplice, non è molto più semplice far così. E pertanto proprio il suo silenzio nei video fa sì che sia visto in tutto il mondo, anche perché non è importante qui che lui parli italiano, perché raramente parla, fa le facce e fa i gesti, pertanto sono dei video che possono essere visti in qualsiasi paese. È il nuovo divo dei social, che prima della pandemia lavorava come operaio in una fabbrica di materiali plastici, poi entrata in crisi. Ha registrato il suo vero boom non prima della seconda metà di marzo, quando su TikTok contava soltanto un milione di fans. A dare la sterzata decisiva ci hanno infatti pensato gli algoritmi della piattaforma cinese che dopo averli aperto in sole tre settimane le porte della top 100 mondiale hanno dato il là a una crescita che continua ad andare ben oltre le più rose aspettative. Ha superato tutte le altre star, vediamo se la pronuncio bene, Bella Porch, cabi da qualche giorno infatti diventato ufficialmente il terzo creator più seguito in assoluto su TikTok. Non bastasse, presto potrebbe scalare anche un'altra posizione. Abbiamo un altro che è vicino con 6 milioni di follower più in alto. A quel punto potrebbe partire la grande rincorsa al primo di TikTok che è Charlie D'Amelio che oggi ha 118 milioni. Così poi aumenta a dismisura la sua popolarità su Instagram. Il 2 aprile quindi è arrivato l'annuncio dei 2 milioni di follower. Oggi otto giorni dopo quello dei 3 milioni. Nel mezzo si vede anche poi la fidanzata, diciottenne nativa di Sciacca, da Grigento, Zaira Nucci, ma residente poi nel suo stesso paese. L'11 maggio poi aveva quota 8,7 milioni di follower. Che è stato un siparietto poi con il fondatore di Facebook, Zuckerberg, che ha risposto a un suo video inviando un pollice alzato. Poi adesso ha cominciato anche i giornali, i media nazionali e internazionali, New York Times compreso. Ma lui dice comunque adesso vuole continuare ad aiutare i suoi genitori e gli amici delle case popolari in cui è cresciuto, come lui stesso ha confidato al Corriere della Sera ad aprile. Non è comunque un caso che i riflettori di TikTok si sono improvvisamente accesi su di lui. Le sue video reaction, tanto brevi quanto spassose, si sposano infatti alla perfezione con lo stile della piattaforma. La scelta di non proferire mai parola l'ha di fatto reso un personaggio globale. Non intrattiene con la voce, ma con le sue ormai inconfondibili espressioni facciali. L'immancabile gesto finale, le due mani aperte. A modi si fa così. E' inoltre diventato un meme tra i più condivisi online, accrescendone ulteriormente la notorietà. Adesso si è affidato anche a un media manager che gestisce oltre 100 profili VIP, Alessandro Riggio, con il quale sta mettendo a punto nuovi progetti per diversificare i contenuti e studiare nuove forme di monetizzazione. Adesso sta prendendo anche lezioni di inglese in autunno. Volerà negli Stati Uniti per girare un video niente meno che con Will Smith. Ma nonostante sia stato contattato anche da Netflix, il suo sogno resta legato al cinema made in Italy, quello di girare un film con Checco Zalone. E da Juventino sfegatato ha fatto anche un video con Alessandro Del Piero e l'ho anche incontrato. Hanno visto insieme una finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta il 19 di maggio. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.